Come ogni anno da oltre un decennio, in questo periodo Salerno si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per la manifestazione lucida artista. Turisti e movimento in città, una boccata d'ossigeno per le attività commerciali e di ristorazione, ma anche un impegno notevole per le istituzioni e le forze dell'ordine impegnate ad evitare situazioni di pericolo tra le strade. Un appuntamento al quale il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Francesco Russo, si sta già preparando. Siamo in attesa della pianificazione, evidentemente, e come tradizione noi tratteremo con attenzione, con il coinvolgimento di tutti gli enti che sono interessati alla manifestazione, quella che è la gestione della sicurezza, intesa come safety e security. Sono stato qui l'altro anno e mi è sembrato veramente, come ho detto anche l'anno scorso, un momento di festa, di coinvolgimento e di promozione della città che francamente è importante e quindi ci porta tante persone e non ne sono ben felici. Affronteremo qualche disagio, però chiaramente questo vale per la crescita e perché il nome di Salerno sia sempre più diffuso nel mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.